Giampiero Scalamogna intraprende l'attività artistica all'età di 16 anni. Nel 1965 approda al Piper Club di Roma dove forma il duo Dani & Gepi con Daniela Casa, specializzandosi nelle cover di cantanti soleri THM & Blues. Firma poi un contratto discografico con la ARC, sotto etichetta della RCA italiana, e pubblica il primo 45 giri nel 1967 con lo pseudonimo Gepi & Gepi, per sottolineare la sua stazza doppia rispetto al normale. Nei primi anni 70 si dedica all'attività di autore, scrivendo canzoni per Fiorella Mannoia, Patti Bravo e per Mario Musella, con Io l'Amo di Più, interpretata dal cantante napoletano. Partecipa a un disco per l'estate 1972. Il cantante, appassionato tifoso romanista, compone anche con Venditti e Bardotti la canzone Roma non si discute. Si ama, Roma Roma Roma, che divenne l'inno ufficiale dell'A.S. Roma, successivamente forma un gruppo con la cantante Eritrea Melissa Chimenti e con Marcella Petrelli, riprendendo la denominazione Gepi & Gepi. La svolta per Gepi avviene con l'incontro con Ornella Vanoni, che gli propone il contratto discografico con l'etichetta di sua proprietà, La Vanilla. In seguito diventa produttore dell'Avanoni e duetta con lei nel brano di Grande Successo più, tratto dall'omonimo album e rifatto poi da Fiorello e Giorgia per la colonna sonora del film Voce del Verbo Amore. Nel 1978 partecipa al Cantagiro con Chi? Io, con la stessa canzone gareggia anche al Festival Bar 1978. Alla fine degli anni 70 scrisse numerose canzoni soprattutto dance come Body to Body, sigla di Discoring nel 1979-1980. Blu e tante altre che, grazie alla sua voce sol, raggiungono la vetta delle classifiche di tutta Europa. Partecipa al Festival di Sanremo 1989 come coautore dei brani per lei. Cantato da lui stesso, e Ciao, interpretato da Gigliola Cinquetti, scompare all'età di 67 anni per l'aggravarsi di una grave forma di polmonite. al Policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva.